Buongiorno a tutti Buongiorno Stefania, buongiorno a tutti Siamo con il Presidente Armano Fratti E in realtà siamo già in vacanza Come puoi vedere ci stiamo preparando un lettino E' il Presidente o è proprio come stare in vacanza Poi essendo in città Assolutamente, innanzitutto grazie a Telereggio L'emittente dei Reggiani che ci torna a fare visita Sì, come ho detto in una precedente intervista a Stefania Che saluto, da noi è come essere in vacanza Ovviamente ci sono tante attività che sono le stesse attività Che noi cerchiamo quando andiamo nei resort di vacanza Questa visione di un circolo Secondo me è un po' moderna, è un po' nuova Nel senso che si era un tempo portati a pensare ad un circolo Che avesse delle funzioni diverse Di rappresentanza piuttosto che altro In realtà oltre a queste funzioni che sono rimaste Ci sono tutte le attività sportive Di socializzazione Tutto quello che è oggi frequentare amici Anche fosse solo per un pomeriggio Una partita di tennis o una ripresa di equitazione Stamattina raccontiamo anche alcune delle tante attività Che si possono fare qui in questo Ciro All'intanto abbiamo visto nelle immagini di Gianni Barigazzi La bella distesa e tra poco si riempirà Perché alle 10 poi aprirà la piscina Come diceva lei Presidente Oltre al valore sportivo Poi gli impianti li vedremo Conosceremo meglio le attività E lì si fanno Ci sono anche proprio i valori della socialità Dell'amicizia Questo è un posto dove poi si incontrano gli amici O si fanno anche nuove amicizie? Assolutamente Prova ne sia che adesso spero che inquadrerete Il nostro campo estivo Che è frequentato da ragazzi Ovviamente non solo soci del circolo Per poter iniziare dei percorsi Che ti portano poi a fidelizzare anche questi amici A frequentarci Io credo che lo sport si possa fare In tanti posti In tante attrezzature sportive Nella provincia di Reggio Emilia In un circolo come il nostro Riesce a farlo Anche in modo ludico Frequentando degli amici Insomma questo secondo me Va al di là del valore sportivo Che comunque nel 2017 È importante Anche per l'educazione dei nostri ragazzi Quest'anno è un anno importante per voi Ci sono i 50 anni di attività Sì infatti abbiamo pensato Anche a un nuovo logo Beh è un anno importante Che ci dà delle responsabilità Quando penso ai soci fondatori Tra cui io ricordo Insomma Achille Maramotti Che è una persona ovviamente Che conosciamo a Reggio Per quello che ha fatto nel mondo Insomma L'avvocato Mazzi Insomma A tanti A tanti A pochi Soci di allora Che hanno pensato In modo lungimirante A questa struttura Una struttura che è immensa Ricordiamoci che sono 160.000 metri quadri E quasi 7.000 metri quadri Di strutture coperte Quindi hanno pensato A cosa poteva diventare In futuro anche Non solo allora Quando probabilmente Per le loro esigenze Di allora 100 soci Ora più di 500 Le esigenze erano sicuramente diverse Insomma Ed erano quasi esclusivamente L'equitazione Vediamo È proprio un polmone verde Vicino alla città E questo secondo me È anche un grande valore Perché in mezzo al verde È più facile rilassarsi Presidente Assolutamente Infatti Come appunto Ho già detto Le vacanze al giorno d'oggi Si possono fare in tanti modi Ci sogniamo Le vacanze di un tempo Dove probabilmente Si abbandonava a Reggio Per due o tre settimane Adesso tutti lavoriamo Tutti siamo presi Dalle nostre frenetiche Attività moderne Ecco delle volte Anche due ore Un pomeriggio Sono quelle che ti fanno Ricaricare le pile Io domenica Sono stato con amici Un po' in piscina Abbiamo degli spazi immessi Anche sotto alle piante Insomma Come le pinete Dei posti di mare Poi ho fatto un po' Attività sportiva Beh alla sera Sono andato a casa Sereno Come se avessi fatto Appunto una giornata al mare Si stanno naturalmente Animando gli spazi Poi nel prossimo Collegamento Vi facciamo vedere I ragazzi Cominciano ad allenarsi Al beach volley Avete visto i giovani Del campo estivo Anche in lontananza Ed è bello vedere Tanti bambini Si stanno divertendo E passeranno Una bella giornata qui Sì assolutamente Ci crediamo molto Nel nostro campo estivo Proprio per le specifiche Attività del Cere Noi possiamo frequentare Anche sport Che normalmente Non si frequentano Nei campi estivi Mi riferisco All'equitazione O alla subacquea I nostri ragazzini All'età di 8 anni Possono iniziare Anche a respirare Sott'acqua Che sono cose Che piacciono tantissimo Ai ragazzi E non sono comuni Insomma Sempre Presidente 50 anni di storia Però sempre guardando avanti E facendo nuove proposte Con una filosofia Rimane la stessa Ma pur vedendo I tempi Sono cambiati Assolutamente Mi ripeto Ma gli argomenti importanti A volte vale la pena Di sottolinearli Dissi All'allora mia candidatura Portai una fotografia Nel 1967 Di una 500 Per chi ha qualche anno Come me Sa cosa voleva dire Una 500 all'ora Anche nella versione Abarth Bene Ho riportato La stessa fotografia Di una 500 rossa fiammante Assolutamente attuale Del 2017 E ho chiesto Ai miei colleghi Di consiglio Se secondo loro Era la stessa macchina Assolutamente no Si vedevano le tracce Le linee della 500 Però si vedeva L'esigenza Di una macchina diversa Molto moderna Funzionale Del 2017 Io credo che il Cere Oggi rappresenti Che è nato appunto Nel 1967 Rappresenti bene Questo concetto Stefania Lo so E tu ci invidi Noi tra l'altro Siamo al sole Abbiamo pronto un lettino Non so se potremmo usarlo Tra un collegamento E l'altro Ci sono i bagnine Le bagnine Che vi stanno aspettando Tutti i soci E a tutti gli amici Di Telereggio Esatto Noi siamo diciamo Più per il lettino E non per l'attività Del beach ball E si stanno dedicando Dei valorosi Dei valorosi giovani Poi ve li facciamo vedere Stefania Va bene Torno al circolo Cere Torno da Susanna Per cominciare anche A vedere le varie attività Che animano Quel circolo Susanna Allora Stefania Adesso stai vedendo I ragazzi Le ragazze del beach volley Siamo appunto Nei due campi E siamo con Augusto Sazzi È il selezionatore provinciale Di questa disciplina I ragazzi Si stanno allenando Sono alcuni di loro Già stati selezionati Sono bravi? Sì Questi sono Un gruppo di ragazzi Molto bravi E appartengono La società Di pallavolo indor Di Reggio Emilia Ma qua svolgiamo L'attività estiva Di beach volley E siamo centro Della federazione Pallavolo di Reggio Emilia Quindi direi Che questi ragazzi Sono realmente La crema Della pallavolo Sulla sabbia Per Reggio Tra l'altro Questo è uno sport Che negli ultimi anni Ha raccolto Tanti consensi Forse anche Per le buone prestazioni Della nostra nazionale Sì Abbiamo Un livello A livello internazionale Veramente alto I ragazzi italiani Si distinguono In tutte le tappe Del world tour E abbiamo visto tutti Alla finale L'Olimpiadi Abbiamo conquistato Una medaglia d'argento Meravigliosa E magari Qualche anno Tra qualche anno Qualcuno di questi ragazzi Potrebbe essere In quelle coppie Visto che sono Già così bravi Per il momento Si stanno allenando Appunto Qui al Cere Qual è la loro Tabella Diciamo di allenamento Ma noi ci troviamo La mattina alle nove E svolgiamo due ore Di allenamento Con i fondamentali Principali Poi due ore di gioco A livello già Di torneo agonistico Poi nel primo pomeriggio Dopo un riposo E un pranzo dovuto Fanno altre due ore di gioco Sempre con tornei organizzati Quindi direi che Sei ore al giorno Sono abbastanza toste Anche per questi ragazzi Anche se hanno dei gran fisici Alla fine sono stanchi Quanti anni hanno Questi ragazzi? Vanno dai 14 Ai 17 18 anni E hanno l'opportunità Anche di poi Di usufruire Delle strutture splendide Del circolo Quindi utilizzano Anche la piscina Diciamo che Non è solo lavoro Ma anche divertimento Per loro Prima di ridare La linea allo studio Che caratteristiche Ha questo sport Dal punto di vista Appunto della preparazione Atletica Cosa sviluppa In particolare? Ma questo È uno sport Fortemente Muscolare E anche aerobico Nel senso che È uno sport Al contrario Della pallavolo indoor Che sfrutta moltissimo I fattori di resistenza Muscolare E cardiaco Aerobico Dei ragazzi Quindi diciamo Che è veramente completo E alla fine Dell'estate I ragazzi sono Tonici E pronti Per riprendere la stagione Scattanti Allora Stefania Noi Vi ridiamo la linea Ci ricolleghiamo tra poco Per farvi vedere Invece i campi da tennis E devo dire Che siamo stati bravi Perché abbiamo schivato Anche i palloni Esatto Sì 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 Sono stati bravi Anche i ragazzi Le ragazze A non colpirci Diciamo Grazie Allora vi ridiamo la linea Poi tra poco Dai campi da tennis Andiamo dunque subito Al Circolo Cere Dove da questa mattina Stiamo seguendo Le varie attività Che lì vengono organizzate Adesso è la volta del tennis Susanna Sì esatto Vedete I bambini Partecipano proprio Al campo estivo E prevede anche L'attività del tennis Noi siamo con Matteo Tassi E tecnico nazionale di tennis E anche direttore tecnico Della scuola tennis Del Cere Allora i bambini E si cimentano Già da piccoli Nella tennis Assolutamente sì Vediamo qua proprio In attività Il centro estivo Che è iniziato Questa settimana E andrà avanti Per Fino a fine luglio Per poi riprendere Le prime due settimane Di settembre Che attività fanno i ragazzi? L'attività Fanno un'attività Multisport E Quale Ovviamente Praticano anche il tennis Perché noi cerchiamo Di fargli Soprattutto di questo sport In particolare stamattina Come le allenate? Questa settimana Fanno dei giochi Coordinativi Con la racchetta E prendono confidenza Con le capacità Coordinative Insomma Quindi tutti i giochi Legati al tennis Iniziali Perché sono praticamente Tutti principianti Tra l'altro È da dire Che queste attività Sono aperte anche ai non soci E poi possono essere Fatte in periodi Determinati Assolutamente Si possono iscrivere Sia soci Che non soci E le attività Vanno avanti Fino all'ultima di luglio E riprendono Le prime due di settembre Quindi Prima dell'inizio Della scuola Senta maestro C'è da dire Che appunto I campi tennis Sono diversi All'interno del Cere Sì Abbiamo Un Qua abbiamo Veramente Un Un circolo bellissimo Dotato di Tanti campi Abbiamo addirittura Qua L'erba sintetica Abbiamo la terra sintetica Poco più avanti Abbiamo la terra vera Altri quattro campi E poi siamo dotati Di una struttura meravigliosa Lamellare in legno Dove ci sono due campi In moquette E un campo in vortex Adesso appunto Stiamo vendendo il campo Diciamo estivo Ma poi ci sono tante persone Che vengono qui a giocare a tennis Al di là del campo estivo Assolutamente Questo è un È un circo Dove i soci Giocano tantissimo E volevo anche Spendere due parole Per la nostra scuola tennis Perché è iniziato il centro estivo Ma sono iniziati Anche i nostri corsi Del tennis Abbiamo studiato Diverse strategie Per poter allenare Sia durante l'estate Sia i ragazzi principianti Che quelli del perfezionamento Che anche quelli dell'agonistica Tra l'altro Proprio il centro Ospiterà A settembre I campionati provinciali Esatto È una cosa In occasione Del cinquantesimo anniversario Del circolo C'è questo Questo evento Straordinario Che ospiterà Tutte le categorie Del tennis Partire dai ragazzini Giovani Under 10 Fino ai veterani Over 55 Quindi avremo Centinari Centinari di iscrizione È un evento Sul quale stiamo già lavorando E cercheremo di organizzarlo Nel miglior modo possibile Quindi prima di dare La linea allo studio Dicevo Lei è il direttore tecnico Della scuola tennis Ed è un tecnico nazionale Quindi più di un maestro Beh certo Sì È un corso Che dura due anni Siamo specializzati Praticamente Nell'elemento Di giocatori Agonisti Di alto livello Quindi Insomma è un elemento importante Questo non toglie comunque Anche il fatto che a me piace Comunque ancora lavorare Con i bambini piccoli Perché è puro divertimento Quanti anni hanno Lo ricordiamo? Vanno dai 6-7 anni Fino ai 13-14 anni Grazie 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 Al maestro Tassi Allora noi Stefania Ci rispostiamo E vi facciamo vedere Invece l'equitazione Parliamo di equitazione Esattamente Siamo con l'istruttrice Melanie Gruber Dunque questo è lo spazio esterno Si stanno allenando i ragazzi Sì abbiamo il gruppo Dei nostri agonisti Qui in campo In sabbia con noi Che si stanno allenando Sui salti In preparazione dei prossimi concorsi Adesso li facciamo vedere Questo Gruber È anche un bellissimo sport Di grande eleganza E insegna anche molto ai ragazzi Assolutamente A differenza di tanti altri sport L'equitazione È una scuola di vita È una scuola di vita Per i ragazzi Perché imparano A prendersi cura Di un animale Di un essere vivente Di prendere responsabilità E questo A differenza di tanti altri sport Fa sì che l'equitazione È uno sport per eccellenza Per i ragazzi Tanto bisogna dire Che il Cere Per quanto riguarda l'equitazione È uno dei centri più attrezzati In Emilia Romagna Questo è un grande orgoglio Assolutamente Abbiamo una struttura Che cerca dei suoi simili In Emilia Romagna Siamo fra le strutture più belle Se non la più bella Perché immersa In questo bellissimo parco verde Abbiamo delle strutture Veramente spettacolari Intanto bisogna ricordare E anche questa è un'attività È un'attività aperta Sia ai soci Che ai non soci Sì certo L'equitazione è aperta Sia ai soci Che anche ai non soci Per cui anche il non socio Può venire a montare a cavallo Qui da noi Può imparare a montare a cavallo Può persino fare agonismo Con noi Melanie Adesso cosa stanno facendo i ragazzi? I ragazzi si stanno allenando Su un salto di esercizio Al trotto Provando a Cercando di tenere il controllo Dei loro cavalli Al meglio Per allenarsi Poi più tardi Sul percorso Quanti anni hanno Questi ragazzi A che età Si può iniziare l'equitazione? Allora Questi ragazzi Hanno fra gli 11 e i 16 anni Si può cominciare a montare a cavallo Dai 4 anni in poi Cominciando piano piano Con delle lezioni apposta Dai 4 ai 6 anni e mezzo E poi dai 6 anni e mezzo in poi Verranno integrati in dei gruppi Di preparazione In base al loro livello Anche alla fascia d'età Per creare anche delle belle squadre Hanno i ragazzi Un'istruttrice E' stata anche una campionessa? Si Sono stata molto fortunata Perché con l'equitazione Ho potuto girare l'Europa Ho vinto 3 campionati italiani Ho partecipato a un campionato europeo Delle coppie delle nazioni Ho vinto gran premi internazionali Per cui oltre Alla carriera sportiva Poi mi sono dedicata Assolutamente All'insegnamento dei ragazzi Che è la mia grande passione Ho anche portato allievi Già a campionati internazionali Ricordiamo appunto Quante strutture dedicate all'equitazione Ci sono al Cere? Allora A fine maggio Che ne organizzeremo un altro Il 3 di settembre E una bellissima pista Da cross country Di campagna Con degli ostacoli fissi E la possibilità per i ragazzi Anche di andare in passeggiata Stando lo stesso in sicurezza All'interno del Cere Questi ragazzi appunto Si dedicano anche in estate A questa attività L'equitazione Sì certo L'equitazione è uno sport Da 365 giorni all'anno E i nostri ragazzi Sono molto appassionati Soprattutto d'estate Quando Possono venire qui Anche finita la scuola Stanno in parte qua Tutto il giorno Con noi Montano i loro cavalli Li accudiscono Aiutano Bellissimo Perché creano Un bel team E la cosa importante Anche da dire Che l'equitazione Dà appunto Anche delle regole Soprattutto insegna Anche a prendersi cura Del cavallo Sì A differenza di altri sport Il cavallo Non lo puoi mettere In un angolo Il cavallo ha bisogno Di cure Anche quando tu stai male O tu sei stanco Tutti questi ragazzi Imparano A prendere responsabilità Del loro cavallo O del cavallo Che gli viene affidato Perché in parte Questi ragazzi Stanno montando Cavalli di proprietà Del CER Della scuola di equitazione Ma li accudiscono Li puliscono Li curano Anche se il sabato sera Magari escono Loro la domenica mattina Sono qui da noi E poi vediamo Questi ragazzi Seppur molto giovani Già con grande eleganza Montano i cavalli Sì Sono molto fortunata Ho una serie di allievi Molto talentosi Che si danno molto da fare Infatti Lo stile loro È impeccabile Appunto Ricordiamo Questa è una delle attività Aperte anche ai non soci Che consiglio può dare Anche ai genitori Che magari hanno dei figli E desiderano avvicinarsi A questo sport Venite a trovarci Venite a trovarci Ripeto L'equitazione È aperta anche ai non soci Per cui Possono venire tutti qui Prendere un appuntamento Con noi E fare due lezioni Di prova Gratuite Oltretutto Tra l'altro Una volta Ma non è più così L'equitazione Poteva essere avvicinata Non da tutti Invece adesso È uno sport Che è veramente Divinato per tutti Sì È uno sport per tutti Tenga conto Che in parte L'equitazione Costa meno Di una lezione di tennis Per cui è uno sport Assolutamente Avvicinabile a tutti Allora Vi facciamo ancora vedere Penso di avere ancora un minuto Questi ragazzi Stanno Tra l'altro Questa è un'operazione Complessa Vero? Sì È un esercizio Molto difficile Dove i ragazzi Devono veramente Concentrare L'equilibrio loro E l'equilibrio Dei cavalli Per fare il salto Fatto bene Quali altre Diciamo Abilità Sviluppa L'equitazione Un grande Equilibrio Un gran A parte la responsabilità Che abbiamo detto Forza Perché nell'equitazione Usano muscoli Che negli altri sport Non utilizzano E senso Creano senso Per il cavallo Senso Per le situazioni E imparano A risolvere situazioni Che magari Non sono programmabili Allora Stefania Con queste belle immagini Dal circolo Cere E ringraziamo Per averci ospitato E averci mostrato Alcune delle tante attività Che si possono fare qui È veramente Un Come dire Un spazio verde Bellissimo Vicino alla città E forse io Gianni Barigazzi Rivediamo qua oggi Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti